Ben trovati all'appuntamento con il meteo. Queste le previsioni del tempo per lunedì 13 febbraio. L'azione della bassa pressione fredda va concentrandosi verso le aree centro-meridionali, con piogge e nevicate diffuse fino a bassa quota o localmente al piano, sulla Campania, centro-sud Lazio e Foggiano. Nevicate più deboli ed irregolari fino in pianura sono previste sulle regioni adriatiche e sulla Sardegna. Va meglio sul medio e alto Tirreno e al nord con ampio soleggiamento, salvo fioccate deboli al primo mattino su Veneto, Friuli, Romagna e basse pianure centro-orientali. Molto freddo ovunque, specie al centro-nord. Sulla Campania continuerà ad arrivare aria fredda e instabile che favorirà la formazione di addensamenti nuvolosi. La parte più consistente del nucleo freddo è previsto passare tra il pomeriggio e la sera. Il cielo sarà irregolarmente nuvoloso o nuvoloso per il passaggio di nubi che saranno associate a rovesci. La neve è prevista cadere fino a circa 200-400 metri di quota e a tratti più in basso. Potrà fioccare anche in pianura nel corso della giornata. Temperature in diminuzione, venti moderati da est, mare mosso. Temperature in diminuzione, venti moderati da est, mare mosso.